Marocchino Trentenne è stato arrestato dai carabinieri di Fano per furto e tentato furto nella tarda serata di sabato. La zona presa di mira dall'uomo, armato di un piede di porco di oltre mezzo metro, è stata quella attorno al semaforo del Lido sulla Nazionale. Presi di mira il supermercato, poco distante, la rosticceria e il negozio di materassi per recimolare in tutto pochi spicci, appena 150 euro, ma a causare molti danni. Data l'ora e il giorno in diverse persone lo hanno notato nei suoi maldestri tentativi di furto e avvisato i carabinieri che si sono messi subito sulle sue tracce ed anche grazie alla descrizione data di lui come un tipo dall'andamento barcollante con in mano un piede di porco e abbigliamento scuro, i militari lo hanno rintracciato attorno alle 1.30 di notte nei paraggi di via San Sovino, dopo che aveva fatto visita a un altro negozio di abbigliamento, questa volta nel centro di Fano. Alla vista dei carabinieri il marocchino con precedenti e già noto alle forze dell'ordine ha tentato maldestramente di nascondersi sotto un'auto dopo essersi disfatto del Grimaldello, ma il tentativo non gli è valso a nulla. I militari lo hanno arrestato in flagranza di reato nella giornata di domenica che per direttissima ha convalidato l'arresto e disposto gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza.